Le partite che possono segnare la svolta nella carriera di un giocatore, questa partita può essere importante per il futuro di Bernadeschi e il gol che ha segnato, lo si può definire un gol straordinario? Io credo che il futuro suo è già disegnato, già da tempo, lui che lo sta costruendo sicuramente lo confermerà, cioè in tutte le partite che farà, credo che gli manca continuità di intensità, nelle due fasi di gioco, gli manca migliorare, lo sta facendo, lo sta lavorando per quello, giocare di spada alla porta avversaria, ma comunque nel momento che raggiunga una continuità di intensità o di alta intensità durante la partita sicuramente sarà ancora un giocatore più incisivo in ogni partita. Il gol? Un gol bellissimo, un gol che ci ha dato la possibilità di stare davanti a un avversario fortissimo in questa qualificazione, che ci può permettere di pensare nei prossimi 90 minuti di una forma diversa.